che bello bisogna scrivere qua sopra ah ah montone cercasi no graudio non cerchiamo montoni l'unico montone sei tu e basta onore ma non sono ancora morto si ma la vecchiaia però ah si ma la vecchiaia di solito la vecchiaia non la vindanna ma manca 80 però che è successo che stai compilati che stai compilati la vecchiaia Grazie.